Come era stato ipotizzato nei giorni prima della gara, si sentiva odore di record soltanto per quattro secondi, non è riuscito a centrarlo il keniano Mwangi, che nonostante le condizioni meteo avverse è riuscito in un'impresa quasi impossibile. Dopo aver condotto la gara in compagnia di un gruppo di connazionali, per i primi dieci chilometri decide di aumentare il ritmo di almeno tre secondi fino a quel momento a 2 minuti e 57 per cercare di scrollarsi di dosso i più temibili avversari. L'azzurro Stefano Larosa fin dall'inizio era consapevole di non avere sulle gambe il ritmo di questi atleti e quindi si poneva tra la decima e la quindicesima posizione per tentare di rimontare nei chilometri finali. In campo femminile la gara è stata decisamente più incerta. Tornando al maschile, nel momento in cui Mwangi e Kemei hanno staccato gli altri, si è sprigionata una bufera di pioggia e vento in cui Kemei ne ha fatto le spese lasciando Mwangi solo al comando. Nel finale, dopo aver superato Porta Sant'Andrea e mancavano 800 metri al traguardo, l'azione di Mwangi è ancora limpida e nel rettilineo conclusivo ha provato a spingere perché consapevole di poter fare un grosso risultato, ma al traguardo di Via Roma alla beffa per soli quattro secondi non batte il record della gara dell'Etiope Cianè del 2012. Grandi tempi anche per gli altri che seguono con un distacco di circa 250 metri per Kemei e 300 per Maio, mentre Stefano Lagosa ottiene un decimo posto. In campo femminile alternanza alla testa della corsa, ma nel finale volata lunghissima della guandese Mukandanga l'ha spuntata sulla gatta in Munguleia, prima dell'italiana Francesca Scarcelli dell'Olympic Runners Lama. Bene anche gli atleti portacolori della Policiano che sono riusciti con El Kalil, Niola, Cardelli, Annetti, Vennuccini, Graziani, Bettarelli, Lisi, Verini a ottenere dei grandi risultati.